Nasce il primo centro di informazione e accoglienza turistica interattiva d'Italia, nasce a Caltanissetta nel centro della Sicilia, un luogo che chiaramente ha molto da offrire in termini di turismo. Noi nasciamo con la vocazione di fare accoglienza turistica, lo facciamo con un nuovo concept, lo facciamo con la possibilità di dare ai turisti maggiori possibilità. Usciamo dal classico ufficio che poteva mettere solo a disposizione del materiale e dare delle informazioni. Vogliamo che il turista sia catapultato direttamente all'interno del territorio, che possa vivere direttamente le proprie esperienze, possa organizzarsi il proprio viaggio. Lo facciamo attraverso alcune applicazioni multimediale interattive che vengono visionate dai visitatori e un'esperienza assolutamente affascinante perché catapulta il turista direttamente nel territorio. Creiamo la possibilità di visitare quello che il turista vuole, quindi diversi ambiti territoriali, diversi itinerari, diversi contesti, tanti quanto sono i nostri territori, perché variano dalla ricchezza, dalle miniere, dai borghi e quant'altro, i prodotti tipici. Ci sarà la possibilità di visionare un po' tutto e toccarli con mano, viverli nella loro prima essenza. Questo è tutto quello che riusciamo a fare attraverso questo centro, che ripeto è il primo d'Italia e forse anche in Europa.